Se hai modificato la password della tua casella PEC o hai generato la password dedicata dopo aver attivato la verifica in due passaggi, devi aggiornarla anche sulla tua applicazione di posta elettronica. In questo video ti mostro i passaggi necessari per farlo sul nuovo Outlook. Eseguito l'accesso al client, nella scheda Visualizza seleziona Impostazioni di visualizzazione. Viene mostrata la seguente finestra. Clicca su Account. Dall'elenco degli account configurati, seleziona l'account PEC Aruba e clicca Gestisci. Scorri la pagina verso il basso e clicca Correggi. In questa finestra, dalle sezioni Server di posta in entrata e Server di posta in uscita, digita la nuova password nei campi appositi. Clicca Continua per salvare i nuovi dati e attendi qualche istante. Ben fatto! L'operazione è conclusa e puoi chiudere la finestra. Dopo aver aggiornato la password, ti consiglio di eseguire un test di controllo inviando un messaggio dalla tua casella PEC al tuo stesso indirizzo PEC al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi.